C'è un boss che ne ha dato il bottino, però... ...non ho visto chi era, non ho visto... ...allora vedo a loro che si fa... ...la battaglia era dentro, vero? Sì, la battaglia era dentro... Ah, è venuto un elicottero... ...com'è mai qui un altro che sta roba? Ma guarda... ...dentro avevo finito, la telecamera mi indirizzava... ...fuori... ...allora... ...quindi c'era un elicottero... ...la battaglia è finita... ...e... ...è ancora lui... E' un po' di sì! ...es dispirte di sono jomperi... ...es dispirte di noia! E ora è tornato quell'amico, ora è tornato il tuo. E lo cerchi, ma tanto mia lo prendi, pensi lo prendi davvero, è qui la fine del capitolo, cosa è? Andiamo. No. Eh beh, sennò sarebbe finito il gioco, se lo prendi... L'elicottero è per noi che ci porta via da questo. Ops. Pensavo di portarci via. Diochia. C'erano ancora quei due re noi, rude. Eccoci. E dai, se vogliamo buscanne. Questo è una new entry. Perché c'era una battaglia in questo stage. Oh, questo è una new entry. Ho capito che c'era anche nel sette base. Però col vestito bianco. C'era un figlio di Presidente. Ah. Cristo, questo è forte. Dammi un po' la materia forte. Oh no, questo è forte. Questo è forte. Questo è forte. Questo, ok, che li posso combattere. Allora, sono combattere. Si sa che bisogna combattere. Quattro. Guardate, se ne vedete che si fa. Allora quel gruppo si divideva in due. I gruppi uno affrontavano l'elicottero andando in giù con l'ascensore però è un po' diverso. Claude era da solo con verso quello biannico. Penta, riposo dalla materia furto a Claude. Allora, senz'altro c'è un combattimento con Glovola Pantera. you're a soldier. You are a soldier. You're just a soldier. Come a distributore, you are all to drive. Come si, the most is on the controller, you are all and... you're the soldier. You're a soldier. You're the soldier. You are always onámara. I've been going for your life. You've come and be at home. You almost to run away by the individual. You can't escape too. You're the soldier. Allora, devo fare controllo questo. Siego la pantera come nell'acqua. Beh, vieni, si ci arrivo. Ma te ne furto. Ma che se ne prende. Sì, abbiamo filmato. Ma prima mi sa che devi fargli fuori la pantera. Prima era... Ok, ho capito che devo fargli fuori la pantera. Natti, intanto ho messo lo sprint, ho messo... Pantera. Non so, è troppo... Quanta vita c'ha la pantera? Eh no, così non va bene. Eh, così non va bene. Così non può dare solo la pantera. Si, non parla a nessuna parte. Due, nove. Sono tutte fortissime. Così non va bene. Facciamo un po' di origine, diciamo un po'. Uzi. forse è pesante condannatore meno forte sprint sto sicuro? ma si è andato ancora da nato ma lì è troppo forte e ancora gli altri fanno come l'elicottero dai è troppo forte però sono forti il resto è di piotta normale una nuova di vita credo sia miracoloso è una rapida vai andrà congiornatore senza panterà è finito rinic vai condannatore è una rapida condannatore è una rapida è una rapida al canale quando si joga male al canale ed è finito intanto ho filmato al canale io l'ho elevato potremmo Non c'è un'illeggiore che è vero. Non c'è un'illeggiore. Non c'è un'illeggiore. Intanto non voglio uccidere il tutto, non lo so Regione, c'ho tutto Regione, ah, ce l'ho, ce l'ho Cos'ho col bolto e fu... Ricarica Vai, riparte, c'ho anche sprint, c'ho anche... Forse mi devo parar, mi devo... Vabbè, adesso è anche in doppia qui Intanto non usare proprio niente, non posso spittare un turno Ora, non so tanto le pezzi Ma se non mi ha avuto un scato De me la... Se non mi ha limitato, se non mi ha filmato Va a curare? Ma che mi va a curare? Ma che mi va a curare? Non ho fatto mia augura Non hai caso! Il teneo? Non so un rullino? Il teneo! Il teneo! Sì Ah, ne vedo, andiamo che non ce n'è più, questo corra poco però parte subito, se mi da energia inutile suGioca! stavolta mi ha andato bene, ora si respira bene, l'ho parato ora si fa così sempre il muro estremo, estremo pesante ma è questo dai, sei andato sei andato non ho rubato niente meglio se la materia furto la do a Claude tanti alloggi a tardi meno male mi sono curato di energia se no pensare ho freddo è forte, si lo sapevo con la pantera prima devo eliminare la pantera se no niente qui qui Claude nel 7 base prendeva la moto dopo cui ha fatto la fine del presidente gira di prima beh, ma lui risale da solo eeeh arriva lei arriva eeeh eeeh ah eeeh trochi combattiva con quell'altro gruppo ed era vulnerabile solo al fulmine e lo fanno anche qui guarda un'elicotter 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 con noi guarda 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 allora ti metto con questo gruppo non so se lo fai eeeh oi eeeh 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 Ehi dai, menù, menù di cosa, menù, menù, allora il combattimento con la macchina lo hanno saltato questo remake perchè ci combattevi con quella macchina durante l'ascensore. Ehi dai 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 Un'arma che non parà lontano. Penalizzato. Ache mi ragu' di la X a rai. Vai, tocca a noi Smontiamolo, tocca a noi Allora, siccome Ah, menù Ah, se pigi i menù prima ti dà il tempo Allora, siccome questo Colpisce almeno due nemici Non mi piace una strada zero Guarda, lasciamolo, guarda Niente, lo voglio I menù Abbiamo tutto, non lo sembra Allora Andola, oi Andola, oi Andola, oi Andola, oi Abbiamo le barriere per ripararci Ora, tante, dopo le distruggerà Stai tentandome Fugare a me Lo so, qui, a qui, a qui, a qui, a qui Bu, vai, a qui, a qui, a qui se prendi se prendi e niente difensivo cos'è? vedete che pia che volta spalle quando volta ma è un bel gene non ti muovi 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 ti proteggi e dai lei mi fa liberi 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 3M ok 3M 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 4M 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 5M 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 6M 5M 6M 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 7M 8M 5M 6M 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 7M 7M 8M 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 9M 8M 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 9M 10M 9M 9M 10M 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 Cosa? Ui non ti parai Ehi Capito Ui non ti può avvicinare, non ti può avvicinare, non me ne voglio avvicinare, eccoci qua, devo eursa, e controlla che, all'immaginare, quindi sei dovuto? so mi幹嘛 andiamo a picchiare lui spero sempre coperto mi sono un oggetto la granata vai bonbon 500 il bombon non ho capito non ti può avvicinare orretto vediamo se c'è lentezza se c'è bella storia stonato stonato a a non non che 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 la lentezza e devo dare la lentezza hago questo prende oh no resistente mira torretto e un gran casino siamo a un limite 200 marretta uno sprint marretta devo dare sprint a heret per la storia vai eh un altro step via da qui via da qui sprint marretta 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 e se vuoto un'igniga la ruota me ne può fregare di me non prende centrale nonostante anche il cane su arriva a metà barra sta partendo insisti insisti che mi ha detto mi ha detto che mi ha detto è un'ignima mi ha detto Mamma mia lo preso, non c'è nada con lei, sempre ero questo. ... ... ... ... ... ... ... Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda, sta andando. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda, sta andando la espalda, sono io. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro, sta andando la espalda. Ehi che un po' in oscuro. Ehi che un po' in oscuro. Ehi che un po' in oscuro. Si carica in casanza. lì a kamikazu. Potevano andare lì a kamikazu e sconfiggere di vita ne arriva tanto. Allora si sono divisi. Tiff e Claude e loro tre. Ancora capitolo 17. Noi si scende, loro sono rimasti lassù, al grattacielo. Siamo alla base, sì. Lo ricordo. L'altro è quello che si tratta. Sì! Un'altra nuova entretter battaglia. Ah, Shredder. No, non siamo, è Shredder. Hai da Gheri. Ah, ora mi raccomando questa cosa. Ahahahò! Ma era quasi cominciata da cosa. Acesta era una relarence della guerra tra ilonato. Ma l'aiati? Noi, per출hesi d'autore. Noi. Non lo so. Ancora battaglie dopo quel boss che ci ha stramato? Vediamo che succede qualcosa, non si combatte Guarda, la moto la riprende anche qui, la riprende anche qui come nel set di base anche se l'ha presa nel capitolo 4 qui Non so se c'è un pezzo con il moto Vai, vai, vai Vai, ti fa fuori l'unima automatica Ti fa con la petto quella Sì, sì, ora c'è un altro pezzo con la moto Non so se c'è un pezzo con le due Oh, come si scopri Se c'è un pezzo Sì, non so se c'è un pezzo E' un pezzo con la moto Alla via, mori come zero Wow è andata bene andiamo a se gioco un pezzo con la moto un'altra volta è questo è Philippe è il canso di è il posto di Allora Sì, c'è un pezzo qua la moto.